Ciao a tutti, domenica sera e niente spesa. Oggi giornata pigra, per ogni tanto ci vuole e quindi bisogna vedere cosa mangiare stasera. Adesso aprirò il mio incasinatissimo frigo e vediamo un po' cosa posso tirare fuori. Ecco qua, non spaventatevi, ma questa è la situazione del mio freezer che andrà sistemato e quindi adesso ci prenderemo una giornata per sistemarlo. Ci sono questi pinocchi avanzati, Orogel ce n'è mezza busta e direi che stasera può fare al caso mio. E poi troviamo queste patate, patate novelle. Vediamo un po' che cosa possiamo fare con finocchi e patate. Ecco qua i nostri finocchi a fettine, comodissimi perché possono andare direttamente in teglia. Eccoli qua. Già tagliati, già puliti. Poi tagliamo le patate a fettine sottili e le aggiungiamo ai nostri finocchi. ed ecco qua. Bruzzatina di pangrattato su tutta la superficie, così. Et voilà. spizzichino di sale e olio evo. Ecco qua ragazzi, la nostra cena va in forno e questa è stata una cena svuota frigo. Intanto che i finocchi si cuociono ne approfitto per salutare qualcuno di voi perché mi fa davvero piacere. Il canale va avanti grazie alle vostre visualizzazioni e alle vostre iscrizioni. Comincio a salutare la mia amica Angela del canale Our Home, poi ho un nome un po' complicato, ma poi in descrizione vi lascio poi il link dei canali. Grazie Angela per essere sempre presente e grazie per i consigli che dai nei tuoi video di prodotti per la casa e per l'igiene personale. Ciao Angela e ancora grazie. Poi voglio salutare la mia amica Anna del canale Anna Toscana che fa dei vlog molto carini che io seguo sempre molto ma molto volentieri e in particolare in questo periodo si sta occupando di un gattino che lei ha chiamato Calimero che è un gattino di strada molto magro, molto tenero e lei va tutti i giorni a dargli da mangiare, gli va a prendere le scatolette di cibo e io questa Anna la trovo una cosa veramente fantastica. Complimenti, sei bravissima. Poi voglio salutare il mio amico Max del canale In Cucina Combi Max e fa dei video con delle ricettine davvero sfiziose, semplicissime, alla portata di tutti. A me piace molto seguirlo e spero che molto presto inonderai il canale con le tue deliziose ricettine. Ciao Max, saluto la mia amica Tere del canale Le Piante di Tere dove lei mette tutta la sua passione per il mondo verde. Io sono affascinata perché io ho il pollice nero e vedere la sua bravura mi affascina sempre. Ciao Tere! E poi saluto la mia amica Steffi del canale Il Mondo di Steffi. Andate a visitarlo perché lei intanto è bravissima nell'editing e nel montaggio e resterete stupiti dai lavori che fa. Fa dei bellissimi disegni e andate a scoprire anche i suoi contenuti che sono davvero molto interessanti. Ed ecco qua, i nostri cinocchi e patate si sono cotti. Ma dai, non sono neanche tanto bruciacchiati. Bene, il video finisce qui. Io vi saluto. Buona serata, buongiorno, buona quando guarderete questo video. Iscrivetevi al canale, lasciatemi un commento e un like. E noi ci vediamo al prossimo video con proposte vegane o vegetariane. Ciao a tutti!